Sono un amico. Che cazzo sei? Sono un amico. Ma da cont'è che siete rinchiusi qui? Mesi? Anni? La mamma dice sempre che tu sei speciale. E tu lo sai cosa vuol dire speciale? Vuol dire strano. Vuol dire storica. Basta! Smettetela! È stato il lambuino, non ho fatto niente! Prima le persone erano più buone. No, non tutti. Sono venuti degli uomini dalla galleria. C'era un uomo, non l'abbiamo fatta entrare. In ginocchio! Tutti! Giù! Per cui siete lì tutti. Che cazzo c'è su quella montagna? A queste parti si dice che è meglio lasciarla stare la montagna. Smettila! 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 Mi dite sempre tutti di smetterla! Io non me ne sarò qui nascosta per il resto dei miei giorni, come hai fatto tu! Io non voglio morire qua dentro! Io voglio vivere la mia vita! No, mio mio Duncan! Devi avere felice! Sì! Oh... Sì! 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 Grazie a tutti.